c'era base militare allora io mi prendo il fucile da cecchino e guardo se c'è qualcuno in caso c'è qualcuno anche sparo se è più di uno non sparo perché la c'erano zombie nella base militare e la base militare è chiusa peraltro quindi è possibile che c'è qualcuno la base militare dove sto mirando io la vedi che c'è quella struttura verde quella è la base militare poi ci sono anche i tentini militari e c'è uno c'è uno occhio c'era uno c'è uno dietro la casa rossa ragazzi da qua non riesco a prendere un vostro fucile perché è scassissimo questo e spara non spara sentito abbassati 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 hanno sparato abbassati abbassati non ho sentito un passo eh no hanno sparato io l'ho sentito abbassati e non ti muovere non fare un passo lo senti lo senti non ti azzare non ti azzare non ti azzare non ti azzare che ti beccano Sì lo so che è qua vicino saranno dentro la base là ci sono i dormitori sulla destra purtroppo non ho non abbiamo qui la busta tu controlla se entra qualcuno aspetta un attimo sai che facciamo entriamo in quella casa marrone laggiù di fronte in quella casa marrone l'avete in terza persona la casa marrone davanti c'è la botta chiusa ora forse c'è qualcuno che ha entrato va dentro tu sai che fai mira da qua e vedi se 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 viene qualcuno alle spalle le mie spalle in caso poi vieni tu va bene vado prima io ok vieni vieni e chiudi la porta no zombie 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 cazzo chiudi chiudi la porta chiudi la porta oh my god eh no adesso siamo qua è entrato ma vaffanculo ok sanno che siamo qua attenzione e mi sono bugato peraltro nelle cadavere dello zombie perfetto ragazzi mi devo caricare mi devo caricare l'arma aspetta un attimo sanno che siamo qua attenzione c'è stanno che stanno qua e siamo qua occhio non ti mette vicino le finestre ammazzalo ammazzalo o merda o merda occhio occhio non ti mette vicino le finestre eh ragazzi siamo messi male perché sanno che siamo qua già abbiamo allettato il nemico ok va a sanitare io sto entrando eh vai ok vieni entra vieni entra chiudi la porta muoti 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 chiudi la porta chiudi la porta chiudi la porta ok entro vado la sopra eh qua c'è la porta chiusa attenzione ok non c'è nessuno dentro la base imitare allora era fuori era fuori la base imitare che ha sparato ok allora non so perché ma tu senti sempre caldo cioè ma chi ha la febbre sempre non lo so levati con la maschera dalla faccia oppure vabbè lascia perdere va aspetta l'acqua chissà mi ha sempre nel deserto che cerchi l'acqua mi ti facevo scassare l'esame eccolo 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 c'è acqua 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 avanti 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 vieni 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 davanti a me ma sei sicuro si 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 tuffati bagnati lo sai che fa ti levi tutti i vestiti e ti tuffi dentro si si lo so lo so minchia per lei dov'è bellissimo si però dobbiamo stare attenti eh minchia che culo è esposto sto punto però devi controllare la strada sempre guarda guarda tranquillo sono qua io aspetta in caso sparono te aspetta come me aspetta in caso sparono minchia ti danno guarda guarda quando si si so i bellesi si baggono tipo sottoterra non puo prendere più niente guarda si è tuffato con l'arma ma l'arma te la potevi togliere e l'arma si bagna pure si rovina porca sbaglio la tengo io la tengo io la tengo io perché mi spavento che si bagga sottoterra ok la tengo io almeno se c'è qualcuno il mirino è strano si comunque secondo me il mirino sta facendo il bagnetto dove sei dove sei oh sento passi sono io quanto cavolo sei ah ma sei sotto l'acqua ho pure fame madonna aspetta forse ho ah ho delle acciughe ho delle acciughe delle sardineo guardami le spalle tu immagini anneghi non so se puoi annegarlo ragazzi mi immaginate se è annega cosa che è successo guardi sono morto e te l'ho detto tu immagini anneghi sotto l'acqua ti sei messo sotto l'acqua sei morto sono morto ho dei siamocritani io 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 eh eh hey èhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih I ghiopio leei sono scassate le risate Come? Vai ho detto perché ti sei messo sotto l'acqua non è che ti anneghi ma mai l'ha fatto oggi pomeriggio sono stato tre ore ma scusa ma perché ti sei messo sotto l'acqua porca puttana ho detto che fosse anneghi così e infatti ti sei messo sotto l'acqua no non ci posso credere ma non è che sei molto tipo del mio al contrario che poi sento troppo freddo ma ora c'è tutta la tua roba e come faccio allora mi tengo delle magliette il sparato tuo no pare si è sparato cioè il video vuoi essere sparato o o o o o o o o oh oh